Santeria in biblioteca! Approvvigionamento nemico! Non devono rifornirsi! Pelivolo spia approcciato! Pelivolo spia nemico! Pelivolo spia approcciato! Bomba atto! Bomba atto! Bomba atto! Polo di ricognizione concluso! Abbiamo un attacco radente di supporto! Pelivolo spia approcciato! Pelivolo spia approcciato! Pelivolo spia! Pelivolo spia! Pelivolo spia! Pelivolo spia! Pelivolo spia! Pelivolo spia! Abbiamo perso il comando Stiamo vincendo Volo di ricognizione confuso Stiamo schiacciando Stiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.